Oggi, 1 aprile 2014, in Consiglio regionale del Veneto, in Commissione Affari Istituzionali, è passato il progetto di legge numero 342, che prevede un referendum consultivo per l'indipendenza. Terrorismo e versione del sistema democratico e fabbricazione di armi. Di queste accuse devono rispondere le 24 persone arrestate nell'invizza ad alta di ordine i carabinieri da Rossi, Brescia, che ha sgominato l'associazione denominata l'alleanza che ridisce più organizzazioni secessioniste sotto il comune progetto dell'indipendenza dallo Stato italiano. Grazie a tutti!